salve ragazzi salva a tutti benvenuti su questo nuovissimo video sono felicissima ragazzi di pubblicare questo video e sono anche molto felice di creare questa intro perché la prima volta che registro un intro del genere nel mio canale e comunque per i miei video e sicuramente ovviamente l'avrete notato perché tutti i miei video in genere partono con l'into normale e poi si parte direttamente con il video ovviamente inerente a fortnite quindi ragazzi sono felicissima di presentarvi questo video che ho appunto avuto modo e piacere di registrare e di giocare insieme a joker ragazzi che sicuramente lo conoscete tutti quanti e per chi non lo dovesse conoscere trovate il link in descrizione e inoltre vi ricordo anche che nel suo canale è uscito un video registrato insieme a me dove abbiamo giocato su fortnite e abbiamo fatto una partita molto molto bella e niente ragazzi vi lascio al video un bacione decido parco pacifico tilted è quello che vuoi a papà così è beccosi a pinnacoli 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 proviamo a prenderci il palazzo centrale quello grigio ok proviamoci che io c'è una mani buona eh qua non dico tanto uno va bene pure bianco basta che me ne dà uno o sennò una bella mitraglietta silenziata blu madonna no quella adesso nel game è top quella è una cosa devastante quella si ma quella poi ho notato che anche da distanza se tu fai che ne so il colpo singolo che riesci a fare ah si 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 ma fai delle headshot mostruose mostruose ah è allucinante e non vedono nemmeno da dove stai sparando sì sì esatto è bellissima e sneaky sneaky sopra c'è una pistola e un tattico ok io probabilmente arrivo al piano sotto c'è uno qua sotto col pompa eh e non sei tu no no ok io uno l'ho fatto e eh non ho qua con te perfetto non ho pompa e niente ma c'ho un tre colpi e una pistolina ok lui ce l'ha un pompa invece provano da sotto qui si dobbiamo provare lui sta proprio sotto piano terra eccolo e daci il pompa daci sotto un altro amico mazza che male m'ho fatto grazie puta prenditi la sotto si 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 vabbè tutta tua ok ok e anche qua un inizio bello cagliardo si si ho una munizione di shotgun se riusciamo a trovare anche il shieldino sarebbe proprio spettacolare vieni qua vieni qua vieni qua ho fatto una cosa bella arriva qualcuno ho sentito ok se non ho sbaglio ma temo inizio di pompa c'hai in una vieni grazie madonna se apri sta porta ti stupriamo vieni qua apri un po' sta porta stiamo facendo l'abbraccio andiamo ad apprendere va ok oh morto uno un altro qua ok perfetto perfetto ok mi prendo qua il cecchino perfetto eh c'è qualcun altro verso ovest ok io sento una cassa e cosa va da me hai fatto malissimo qua dentro l'ho buttato ok sotto a noi un altro ma così c'è stato che mi cazzo non è nato non lo so perso ma dove cazzo è nato era qui what ah stavo sotto le scale non ci posso credere che che sneaky ma ti rendi conto ma certo mi ha sparito questo ma dove cavolo è andato questo mo a questo le faccio ma mamma eccolo arriva quanta cassa oh c'è lo scala vai tutto tu tutto tu ok ok mi sto lasciando un po' mezzo di one shot ma non mi amore nessuno il pezzo di merda oh quanta roba qua aspetta qui è madonna santa se mi sto a posto se qua c'è qua c'è sta mi traietta quella la silenziata verde eh io sto a posto io c'ho pump blue e ivy shotgun se ti hai colpi del cieco gentilmente eh sì vai 27 per terra perfetto ok ok adesso diciamo che siamo messi leggermente meglio eh sì dai siamo otto kill senti fucile la caccia o cecchino blu non sono deciso perché io amo il fucile la caccia io c'ho quello da caccia lo preferisco vabbè qualcuno qua ha sparato sì sentito eccolo e qua sopra il benzinaio tipo il garage vai stavo parlando proprio di spararmi uccidentemi ed era pure scildato eh mamma mia vai prendi tutto perfetto con pablu tu ce l'hai? su tutto? sì sì su tutto ok perfetto questi temi materiali sono quasi mille di legno eh no no sta passando ottimo ottimo perfetto stiamo un attimo comandando beh adesso siamo i padroni perfetto punto e basta ne siamo i padroni di filta adesso adesso dovremmo dare se mette qualche bel pompato quello dorato quindi shotgun ah quello viola c'è uno scettone per te wow arrivo ma secondo me infatti non ci dovrebbe sta più nessuno molto probabilmente oddio non credo sai ormai abbiamo tipo quanti kill 7 ma io due siamo a nove diciamo che è proporzionato 7 tu e io stiamo lì dai ora ora ne dobbiamo fare tipo almeno 20 dobbiamo fare almeno 20 vai perfetto ci sto ci sto qui partono le sfide così mi piacciono gente a sud-est alla L arrivo provo un HS random ciao bello proprio easy proprio bene va bene bello ragazzi fate un cazzo ottimo mi piace perfetto perfetto ragazzi se trova la mitraglietta blu costo di lasciare ti giuro lo scar guarda anche perché lo scar a volte i tapoli di meno c'è stanno tante notte che si faccia la proprio si lo scar è un po' serano allora qui una slurp la prendo così vado a 100 prendo una cassa ottimo un po' di emozioni non bastano mai se vuoi colpire il cieco dimmi ce l'ha un 45 anche anche una 44 perfetto allora niente io poi direi che siamo messi a posto si ce ne possiamo anche andare ok vogliamo andare verso sud ovest verso che ne so boschetto da queste parti qua o aspettiamo un attimo di chiudere la safe eh ma due minuti eh no tantissimo io direi andiamo verso di qui tipo se vogliamo cercare se vogliamo cercare altra gente dico si si va bene andiamo a rompere il chiappo a tutti quanti let's go non possiamo rimanere qua ok quando ho costruito ovest guarda oh nice nice cerco di andargli sopra mi sa che sono si sono buttati tipo al benzinaio possibile per me è qua sotto secondo me questa rampa di metallo l'hanno appena costruita si non pare che stanno qua sotto i schifosi donna quando campano a pinnacoli è una cosa veramente ridicola ti giuro oh non è possibile comunque o stanno qua da qualche parte voglio vedere qua sotto perchè ho questo presentimento si stanno qua infatti ok tutti qua stanno bravissima uso la shieldona qualcun altro o è morto subito non è morto subito allora era lui si che cuore che cuore ti stai portando io c'ho un medikit ok qua c'è un mini mi sa che lo lascio perchè ho 13 band anzi no no tu sei il medikit prendo lì dai ok perfetto fa sempre comodo mini ok vedi infatti il maledetto rientiamo sopra allora per questa montagna eh sì sì vai perfetto 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 ah siamo messi benissimo come ho detto sì no con le armi ci siamo abbiamo tutti siamo pure 100-100 uhuh ecco le là siamo messi i cagliardi proprio dove? ok perfetto vi fate me provo una cassa fermate dai eh ah che hanno preso il launchpad vanno verso verso crisi mi sa sì vogliamo prendere lo stesso launchpad e andiamo pure noi? se puntiamo a fare tanti kit uno sotto provo il tallo no si è spostato gran figlio avevo visto hai visto blu si è spostato all'ultimo stifuso dobbiamo stare attenti che tu li hanno sì 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 conviene quella in high ground se ti ho dato poi io per andare via se vuoi ho una jump quindi perfetto perfetto ok ok eccovi là nooo che pelo eh ho visto ho visto ho visto ho visto ho visto guardaci le pippo gli ho fatti i capelli a biondino ho visto ho visto gli ho levato una trecina gli ho levato faccia la miseria ok stanno lì gli ho spostato il cappello dai su esci di nuovo la codina il corvo è sceso giù io ho fatto bianco il corvo che sta proprio sotto 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 ok sto pensando un attimo a biondina e dai vado a prendermi il corvo che sta sotto ok vai cerco di tenerti un attimo occupato questo qua sopra io eeeh bianco sto cercando il corvo qua e dai morte corvo ok arriva quell'altro doppio blu bravissima è sceso sotto l'ho visto buttate se non sbaglio si cercate di coprire un attimo da qua brava perfetto bravissima ok è stato molto inutile ma va bene così no 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 qua è inutile qui c'è un altro un altro medikit ok va bene così che fare pure siciliano va bene così poi c'è uno scar se ti può interessare no 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 lancia missili allora mi vado a prendere mi vado a prendere il medikit dove stava? esattamente a sinistra eccolo visto 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 si era messo proprio lì sotto sneaky sneaky il tizio si hai detto proprio qua si è messa a fa ecco vieni qua no è attoppato perfetto grazie perfetto andiamo all'altro penso che non dovrebbe servire anche la giampa dove arriva là quindi ah tanto siamo la la che c'è siamo qua perfetto perfetto tu al meglio come sei messa? 550 un po' un po' ah beh adesso adesso noi siamo a 180 quindi ok ok siamo ancora contro 16 quindi possiamo ancora farne un po' sì sì adesso stai a 11 11 ok ah da qua si sono spostato vedo degli shot all'airdrop ma che cazzo c'è un entro a sinistra e si sparano tipo verso dove ho pingato ok sì sì ah ma sta qua sotto uno esatto sì sì ha già messo la jumpad ok sta affettando con uno di questa la 105 verso la nostra dove una KS KS è morto prendiamo la jumpad e pushiamo quelli la base è quella est da me ok vengo qua oh mano strada a me bastardi il roteo di trappola morto morto team morto team ho fatto casca a me e muoio ok no non muoio mi vuole pushare l'ha schifosissimo dammi 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 morto 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 e che non è stato distruggere la roba ok nice arriva te ma è trapassata la costruzione ma che schifo ti lascio scendere ma è stato sto cacchio de bug ma possibile eh sì quello lì è proprio un problema di lag del server un desync mamma eh ho costruito proprio trapassato sì sì se no l'ho visto mamma io entro non me ne fotte proprio sì sì ho visto se c'è lei sì io ti posso dare questo sì sì c'è uno due vai perfetto portarci i pippo come hai detto siamo nella 7 contro 2 ya bene qua sotto ci sono altri scudini ok intanto prendo questi quanti sono madonna 9 scendini c'era questo portarci su vieni 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 oh guarda che c'è mitraglietta blu madonna che bella il tuo amore che bella eh no io la tu prendi che faccio la lasciala perché stiamo matta no no devi per forza è troppo forte vieni qua amore mio eccola io la prendo soltanto perché ho questo shotgun lì ah ok quindi fare doppio con quello lì è tipo boh no ma è troppo bella la mitraglietta a deluto alla per terra vuole madonna quando me hanno esagerato abbaffarla in quel modo la mitraglietta è troppo bella sgravata proprio mamma mia allora la puoi vendere anche tranquillamente a posto dell'aereo dello scar perché è precisissima distanza assolutamente vero allora dentro il magazzino nessuno non ho visto nessuno dentro il magazzino la mia quindi secondo me dobbiamo vedere no neanche all'interno l'avrebbero preso secondo me è ancora la se diciamo che semi grande quindi o campererano da qualche parte ok facciamo attenzione a dietro se vogliamo fare i furbi ci prendiamo la montagna esatto te lo stavo dicendo infatti si deve andare sulla montagna e prendiamo l'altezza allora no dietro il magazzino o nada già mi sembra proprio ma vediamo se troppo vediamo buono questa qui dici provare per credere non è safe però la montagna c'è un pezzettino si ok io sto provato contro la sotto perché se stanno sotto capito ok ho da un'occhiata ok sono qua da me tutta giù da me io sto andando a sala una è caduta ok l'altro salirà adesso ok sto salendo hai fatto malissimo hai fatto danno blu ok ok sto cercando qua sopra morto bravissimo perfetto mamma mi dici quante siamo cinista cinista fatto solo 3 kill maronne mi maronne quante le fatte tu 15 portarci allora è stato comunque un bel game questo qua sì 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 abbiamo avuto l'irli buono e siamo partiti quando scendi questa è la bomba vabbè vabbè bene ragazzi il video conclude è qua io spero che vi sia piaciuto io ringrazio ancora una volta Joker per avermi dato la possibilità di registrare e giocare insieme a lui è stato davvero molto molto emozionante a iscrivervi al mio canale a lasciare un bel mi piace e prima di concludere ragazzi volevo ricordare che io ogni giorno sono in live streaming su Twitch trovate il link in descrizione e anche nel primo commento e io ci tengo anche a precisare ragazzi che io streamo da lunedì al venerdì dalle 4 di pomeriggio alle 7 e poi riprendo alle 21 di sera fino alle 2 di notte questo ragazzi tutti i giorni quindi passate anche da lì a lasciare un bel follow io ragazzi vi auguro una buona giornata spero davvero che il video vi sia piaciuto un grande bacione e ci vediamo presto ragazzi peace io vi invito